E' partito Utopic Fest, questa nuova edizione, all'inaugurazione levo luto citare l'effetto di Lorenz, un battito d'ali, una farfalla in una parte del mondo provoca conseguenze anche in altre parti del mondo. Una edizione incentrata poi sul tema anche della complessità. Ecco, si può collegare questi due concetti e spiegare anche che cosa state cercando di fare in questi tre giorni? Sì, tre giorni intanto di desiderio di riabbracciarsi dopo la pandemia da tante parti del mondo e poi l'abbraccio cuore di Rondine e gli ex nemici che si ritrovano e continuano a progettare insieme il futuro. E poi questo tema l'abbiamo voluto mettere al centro della riflessione per declinarlo in ogni ambito, dalla politica all'educazione, dall'impresa alla vita quotidiana perché o si affronta questo tema della complessità o siamo fuori del mondo, perché il mondo è complesso. Oggi sentiamo nei talk show la banalizzazione di questa parola, oppure sentiamo la retorica che spesso diventa un alibi per non affrontare problemi. Il sottotitolo di Utopic dice la sfida del passo possibile, perché se affrontiamo la complessità e individuiamo il passo possibile, ecco che questa categoria non è teoria astratta, ma si coniuga con una possibilità concreta. E allora nessuno uscirà da Utopic con alibi, ognuno guarderà se stesso e gli altri e se vorrà farà il passo possibile verso la pace. Un importante passo anche per quello che riguarda il metodo Rondine che esce dalla cittadella e arriva nelle scuole. Sì, abbiamo iniziato proprio stamani con la cerimonia di consegna dei primi certificati ai tutor metodo Rondine con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Abbiamo certificato dopo un anno di grande impegno intellettuale e pratico di tirocinio 15 tutor che lavoreranno nelle prossime sezioni Rondine sparse nelle scuole superiori d'Italia. Rondine esce dal Borgo e il passo possibile è in direzione a Utopic si viene, ma poi da Utopic si va. Il presidente dell'Istituto Tognolo ha sottolineato l'importanza per superare i conflitti del collegamento fra mente e cuore, qui appunto col metodo Rondine è quello che cercate di fare. Sì, è l'integrale umano, mente e cuore. Non basta passione, ci vuole un nuovo paradigma. Cosa significa un nuovo paradigma? Proprio un paio di occhiali nuovi con cui guardare la realtà. Se sono piope e mi danno gli occhiali da presbite prendo una cantonata. Allora, evitare di prendere cantonate vorrebbe essere questa l'ambizione del metodo Rondine, comprendere a fondo come l'umano è complesso, ma non rimanere bloccati da questa categoria che fa paura e agire. Si è svolto il primo panel dedicato appunto a Utopic Fest, inaugurata a Rondine, Cittadella della Pace. Quali sono i contenuti principali del suo intervento che ha tenuto qui a Rondine? Io ho portato un'esperienza in 135 paesi del mondo dove ho servito nella riduzione del conflitto con le Nazioni Unite, suggerendo che al di là della buona volontà, dei principi ben stabiliti nella cultura della pace, si debba però anche conoscere le mappe e i punti cardinali perché se non si riesce a orientarsi ci si perde in questa complessità. La complessità non può essere un alibi perché c'è la complessità anche nel cambio climatico, nella parità della donna, nella scoperta del mondo esterno, della ricerca spaziale, però non è che quella complessità abbia fermato quei progressi. La complessità sui temi della riduzione del conflitto e della costruzione della pace dovrebbe essere un'opportunità invece che un alibi per tirare il remi in barca e non sperimentare nuove vie. Spesso invece si danno soluzioni semplici a problemi complessi? Sì, soprattutto si danno soluzioni del passato a problemi del presente e del futuro. Certo il passato deve insegnarci delle lezioni ma i problemi nuovi sono problemi nuovi, non si può sperare che la soluzione di Yalta in Crimea, come ha risolto la guerra mondiale, sia fotocopiabile e ripetibile nelle nuove situazioni di questa guerra che io chiamo glocale, perché è una guerra locale, sicuramente locale, che però ha tutta una serie di interferenze globali in termini di armamento, di sanzioni. Tutti i popoli del mondo soffrono di questa realtà. La copiata guerra ucraina fa 4 miliardi e 350 milioni di click ogni giorno in 200 lingue per dimostrare quanta preoccupazione e costernazione essa dà. E bisogna che troviamo le soluzioni di oggi che saranno diverse da quelle di Yalta di ieri. È stata inaugurata Utopic Fest a Rondine. Qual è il ruolo dei mezzi di informazione nel raccontare le situazioni di conflitto? Il ruolo dei mezzi di informazione è quello di cercare di narrare la realtà andando il più possibile sul campo, cercando di dare voce ai civili che subiscono i conflitti e alle istanze di chi cerca di risolvere le situazioni di conflittualità e di raggiungere la pace. È importante che i media non diventino organi di propaganda né tifoserie, ma rispettino quella che è la loro deontologia e quella quindi di testimoniare. Ecco, come è possibile testimoniare in maniera corretta in un contesto di conflitto dove comunque ci sono propagande contrapposte e dove spesso è anche difficile avere accesso alle informazioni attendibili? Sicuramente è fondamentale il ruolo dei giornalisti sul campo, quelli che appartengono quindi alla stampa internazionale che da operatori esterni quindi alle situazioni di conflitto possono documentare quanto accade. Poi è importante anche avvalersi delle testimonianze delle persone che operano sul territorio, quindi le varie ONG che assistono ad esempio gli sfollati, i feriti, i malati, ma anche le ONG che sono lì da prima dell'inizio del conflitto, che però hanno in qualche modo il polso della situazione e riescono a documentare il quadro sociale e come si è arrivati a certe situazioni. È stata inaugurata Utopic Fest, lo Stato italiano presente anche con la sua rappresentanza. Ecco, sono tante le situazioni di conflitto, in particolare anche l'Africa subsahariana, se ne parla meno in questo periodo, ma è un contesto molto caldo. Molte e mai come adesso una manifestazione del genere è perfettamente azzeccata. Il conflitto in Africa è una questione soprattutto identitaria, è una questione dignitaria, è una questione di valori. Quindi al di là delle etnie, dei clan, dei combattimenti, della cultura, della religione vi è qualcosa di più profondo, una lotta di un istinto di sopravvivenza ma anche un istinto di esistenza. Io ci sono, io esisto e non riesco a esistere in pace con l'altro, anche per tutta una serie di problemi del continente. Ci stiamo lavorando fortemente attraverso un impegno di Italia, Europa e della comunità internazionale, forse senza precedenti.